Nell'episodio 47 di Nazuma Levenorion, a causa dello Mega Maestrom di Petronio, alcuni giocatori del Giappone dovranno abbandonare il campo da gioco, e questo nonostante l'intervento di Elliot, che ha attutito la caduta alla maggior parte di loro. Basil, Mark e soprattutto Axel entreranno così in campo per poter ribaltare la partita contro i Guardians of Queen. La partita allora riprende, e Nathan batterà subito una rimessa verso Mark, che proprio come durante la prima partita della Raymond contro la Royal, lancerà per Axel, il quale tirerà con l'intervento di fuoco. Rassarit però, grazie anche alla sua tricera shield e agli acceleratori, riuscirà a bloccare la conclusione del numero 10 degli Nazuma Japan. Tuttavia, Rassarit dovrà uscire dal campo per ricevere le cure necessarie a continuare la partita, mentre It e gli altri penseranno cosa poter fare per poter vincere questa semifinale. Axel dirà quindi che la loro unica possibilità è quella di completare Last Resort, l'arma finale del Giappone. It, Elliot e Sonny andranno quindi al tiro con il loro di Last Resort, che però verrà parato senza problemi da Rassarit. Dall'altra parte, Matteo tirerà con il Busu Chariot, che Mark rispingerà con il Diamond Punch. Petronio riprenderà così la sua avanzata verso la borda protetta dal capitano degli Nazuma Japan. Tuttavia, il numero 11 dell'Italia cadrà e darà la possibilità ad Axel di recuperare il pallone. L'attacco finale dei Giapponesi può così andare in scena. Basil chiederà infatti ad Axel di poter tirare con il Last Resort, e così il numero 21 del Dinezuma calcerà verso la porta di Rassarit, spazzando via tutti i difensori italiani e superando il Tricera Shield. Tuttavia, Petronio, spingendosi al massimo, rispingerà il tiro di Basil con il suo Last Resort Dragon, che impetuoso si dirigerà verso la porta di Mark. Sony, Ita e Elliot penseranno così di respingere a loro volta il tiro, ma il numero 11 finirà per cedere e costringerà Basil a contenere il tiro del capitano italiano. Fino a quando, dopo aver scoperto il punto debole del Last Resort, Ikaru proporrà di completare la tecnica tirando in quattro. Ita alzerà così il pallone, Ikaru comprerà la rotazione, mentre Sony e Elliot calceranno un potentissimo Last Resort Sigma, che si dividerà in quattro dragoni, che finiranno per stendere tutti i Guardians of Queen, insaccandosi anche in rete travolgendo Petronio. I ragazzi dell'Italia non sono più in grado di continuare la partita, l'Inazuma Japan accede così in finale. Tuttavia, una misteriosa ragazza dirà che è impossibile battere Orion, e se ne andrà dallo stadio. Mentre starà tornando negli spoglietoi, però, Sony si imbatterà in Shinjo, che si congratulerà con lui per aver raggiunto la finale dell'FFI. Sony dirà però che avrebbe voluto giocare una partita corretta, e per questo l'assistente di Bernard dirà che il calcio non scomparirà mai, e che se ne avrà bisogno sarà sempre lì con lui. Le parole pronunciate da Shinjo sono le stesse che disse la difunta madre del ragazzo, il quale si chiederà se l'uomo che ha di fronte sia per caso suo padre. Dall'altra parte però, anche la seconda semifinale del torneo è giunta al termine, ed è stata la Russia a vincere, e questo sotto la guida di Froy. Tuttavia, al centro d'allenamento giapponese, il misteri dirà di aver chiamato una persona che gli aiuterà a vincere, ovvero un Ray Dark. Nel prossimo episodio di Inazuma Eleven Orion, l'attesa finale contro i Perfect Spark inizierà, e Froy si scatenerà in campo. La partita tra Giappone e Russia si prospetta infuocata. Per scoprire come andrà a finire, non perdetevi il riassunto in sitesi di è iniziato nel giorno della partita finale. Oh mio Dio, cosa non è stato il Last Resort Sigma? Diciamocelo, tutti ci aspettavamo che Icaru si sarebbe unito nella realizzazione di questa tecnica, e alla fine è stato effettivamente così. Tuttavia, non scordiamoci che anche Petronio ha mostrato un nuovo Last Resort, ovvero la versione Dragon, con la quale è riuscito a rispedire al mittente il tiro di Basil. Il ritorno di Axel è stato molto tranquillo, proprio come me l'aspettavo. Il bomber di fuoco non ha esagerato, anzi, possiamo dire che oltre ad aver tirato con il torno di fuoco, ha semplicemente guidato l'azione che ha portato Inazuma a trionfare in questa semifinale. Nel complesso è stato un buon episodio, anche perché ha introdotto un nuovo personaggio che potrebbe essere chiaramente la sorella di Froy e Bernard, ed ha anche messo in chiaro il fatto che Shinjo potrebbe essere a tutti gli effetti il vero padre di Sonny. Ora non ci resta da fare altro che aspettare la prossima settimana per vedere la prima fase di questa finale, che a quanto pare sarà l'insegna del calcio pulito. Detto questo, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace per supportare il canale, a iscrivervi se ancora non l'avete fatto e a condividere il riassunto con i vostri amici. Come al solito, poi, ringrazio Peppe per avermi aiutato nella realizzazione di questo riassunto, e vi informo che se in Azuma Corner è riuscita la reazione all'episodio in questione. Quindi, qui da Diego per oggi è davvero tutto, e giochiamo a calcio! Grazie a tutti!